Oggi siamo tutti i blogger e è venuto a trovare Giacomo Massagli che dal 2013 è Executive Chef al ristorante Toto qui a Barcellona. Giacomo, grazie per averci ricevuto. Un piacere. L'influenza italiana della tua cucina nei piatti del Toto? L'influenza italiana è soprattutto quello che concerne pasta e pizza, perché in resumo la cucina che facciamo qua al Toto è una cucina del stile mediterraneo. Quello che è pasta e pizza sì che me lo porto dal caso. Ti dico, come diceva prima la mia capa, ai ricette che io mi sono portato da mia mamma. Esattamente, le classiche come i ragù di cinghiale, queste cose che sono ricette molto tradizionali della cucina italiana. Sono i tradizionali e sono i best seller del Toto, sia l'agnello alla lunga cozione che il ragù di cinghiale. E sono i referenti della carta del Toto, perché poi tutto quello che è la carta Toto ogni semana, ogni 15 giorni cambia. Esatto, facciamo una cucina di tipo stagionale, classica, rustica, che è quello che ci definisce come ristorante. Non cerchiamo il piatto di disegno, sennò che cerchiamo un piatto che sia bello da vedere, con quantità e soprattutto con sapone. Come vedete qua alla mesa non ci sono né olio, né sale, né pepe, perché quando il piatto esce dal pasto è già pronto per essere mangiato. Può essere perfetto, di temperatura, di sale e di olio. E' quello che ci definisce come referente per chi piace la cucina rustica. Siamo qua per soddisfare le poche. Adesso Giacomo ci preparerà qualcosa ovviamente per noi, che proveremo tra 5 minuti e ve la faremo vedere. Perfetto, con gusto. Grazie. 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 Grazie per la visione